Verso la fine degli anni 70, all'interno di una cava di argilla, si scopre la foresta fossile di Dunarobba, costituita da circa 50 tronchi di gigantesche conifere appartenenti alla famiglia delle taxodiacee. La particolarità del sito, oltre la posizione dei tronchi, sta nel fatto che i loro resti, alti oltre 5 metri, hanno subito un processo di fossilizzazione, detto carbonificazione. Negli anni successivi alla scoperta, la soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria ha curato i lavori di salvaguardia e conservazione di questo incredibile monumento naturale.